Ciao a tutti! Sono le 5 di mattina Pure questo coltello non è andato al suo posto Ok, ho messo a posto la casa, posso andare a dormire Prima un po' di zucchero Ma come vi dicevo, sono molto stanco Ne ho messo un po' troppo di crema, quindi ora devo toglierla Ci vediamo più tardi Ok, ho fatto Ok, ho fatto